Nel campo della cucina, quando si parla di valori estetici, ma ancora di più quando ci si domanda se la cucina sia un'arte, si pensa all'estetica della rappresentazione, all'estetica della forma. Scegliere il cibo che vogliamo mangiare, cucinarlo, farlo da soli, è un'operazione che non è semplicemente etica nel senso che magari controlli i processi che riguardano gli aspetti salutistici, ma può essere un'operazione che viene considerata bella. Cioè la bellezza, per esempio, dello scegliersi il cibo e della consapevolezza che abbiamo nel prepararlo e nel consumarlo. La bellezza non ha a che fare, ancora una volta, con delle forme preconfezionate che noi ci beviamo come se fossero date una volta per tutte. La bellezza è ciò che facciamo noi ogni giorno. Le opere di Burrio, le opere di Fontana hanno cambiato un certo modo di intendere il concetto di bellezza, il concetto di valore estetico. Questo può avvenire anche nel cibo, è che nel cibo, nella cucina ci sono circa 100 anni, 150 anni di ritardo rispetto alle arti figurative o le arti con codici lunghi, per cui ancora molti ragionano nei termini di un'arte bella e quindi del decoro, del piatto ben confezionato. Ma questo è qualcosa che è assolutamente sorpassato. Grazie.